Grazie ragazzi, sono Salvini. Non amo usare le parole a caso, però Alfano, Fini, Gesù Bambino, Casini, Macchine Incendiate, Verdini, Cicchetto, Gazebo, Moloto, Bruxelles, Pietre, Merkel, Benzina, Bologna. E io sono convinto che il futuro dell'Italia siano gli schiavi. Complimenti a quei politici che accarezzano Moloto. Quando sento parlare in Calabrese o in Bergamasco, in Napoletasco, ho abbastanza distanze, diffidenza, qua qua, e qua noi stiamo qua. Quando vado dal dentista su un taxi a prendere il caffè, non mi interessa se l'avarista è dentista, è eterosessuale o è lesbica, non mi interessa discriminare chiunque in base all'orientamento sessuale da cretini. I gay sono un abominio che va contro natura, e questo lo dico col massimo rispetto. Complimenti sindaco. Gesù Bambino, torna al tuo paese, fanno in chimica e basta. Bisogna aiutare i gay a fare dei figli. Noi reintrodurremo sei mesi di servizio militare gay. La responsabilità civile per i magistralità necessario. Certo, l'Italia è un paese bizzarro. La vittura è di Giorgio. Napoli e Palermo sono Napoli e Palermo a livello mondiale. Bu. Renzi ha presentato alla Camera e al Senato una proposta di legge molto semplice. Se un'azienda ha preso denaro pubblico, non può licenziare Pannolini, non può licenziare Gazebo, non può licenziare Shakespeare. Ogni tanto si alza Shakespeare che dice, ma io forse non faccio più le panda. Non potete permettere che il Sud sia rappresentato da Crocetta, da De Magistris, da Alfano, Fini, Casini, Verdini, Cicchitto, di Bruxelles, della Merkel, dell'euro e delle banche. Le primarie, le secondarie, i Gazebo, la legge elettorale, il Gazebo e la leadership. Il matrimonio si ha fra l'uomo e i Gazebo. Il problema non è il colore della pelle, il problema è essere Gazebo, Napoletani, della Birmania. C'è tanto da fare. La responsabilità civile per il panettiere. Dobbiamo trollare Putin. C'erano fuori a protestare contro Salvini i Pannolini Borbonici. Cazzo. Amministratori del Sud, liberi amministratori del Sud, onesti, liberi amministratori del Sud, orgogliosi, onesti, liberi amministratori del Sud. Peppino Spacca Milano. Non dico Mongolfiere, sennò qualche magistrato mi denuncia. Mongolfiere. Gesù Bambino va licenziato perché non è in grado di fare il suo lavoro. È Natale e nasce Marchionne Bambino. Se non ti piacciono i 99 posse, torna al tuo paese. Grazie, viva Salvini e grazie, grazie, grazie.